Ed eccoci qua, le ballerine e i ballerini, benvenuti a questo nuovo tutorial Bagasum. L'oggetto della danza odierna è Joc a Romain, Romania. Il titolo del brano si chiama Ini Mituini. Siccome è una danza, una coreografia in tre parti, vi consiglio di andare un po' avanti nel video ed ascoltare la musica per familiarizzarvi col brano e tornare qui perché facciamo un po' di didattica come al solito. Siamo in Romania e siamo cerchio chiuso con le braccia a W e per le braccia vorrei precisare che sono a W nella prima e nella seconda figura, invece nella terza figura le braccia scendono perché siamo nella modalità a traino perché è una semplice promenade sulla linea di ballo. Allora, la prima figura parte con il piede destro e consiste in due passi, come è stato per vedere. Passo, passo, c'è nessuno, c'è nessuno. È curiosa la faccenda, no? Passo, passo, c'è nessuno, c'è nessuno. Qui da me non c'è proprio nessuno, ma quando saremo di nuovo insieme nella danza ci sarà un sacco di gente nel cerchio, speriamo bene. E lo facciamo cinque volte, guardate un po' la terza volta. Passo, passo, balance, balance, possiamo anche chiamarlo così, questa è rotazione. Quarta volta, passo, passo, balance, balance, con rotazione. Quinta volta, passo, passo, c'è nessuno, c'è nessuno. Adesso, per passare dalla prima alla seconda figura c'è una particolarità, ci sono due passi in più e c'è praticamente un destro, sinistro e con il destro iniziamo la seconda figura. La seconda figura ha un modulo ritmitico particolare che fa slow, slow, quick, quick, slow. Tradotto nei nostri passi che cosa succede? Faremo, apriamo di destro, incrociamo di sinistro, quick, quick, i due passettini e l'ultimo slow è l'accostamento della caviglia destra alla caviglia sinistra. Lo riprendiamo, questa cosa qui. Allora, due passi di transito tra la prima figura e la seconda che è un destro, sinistro e poi desto, incrocio, quick, quick, slow. Desto, incrocio, quick, quick, slow. Desto, incrocio, quick, quick, slow. E questo lo fa un numero indeterminato di volte finché lo dice la melodia, qui non c'è da contare, non sono le cinque di prima. E quindi abbassiamo le braccia in presa di traino e cominciamo a fare la terza parte della coreografia, la C, che insiste sul modulo ritmico slow, quick, quick, quick. E quindi faremo con il destro slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow. Naturalmente passeggiando, alternando il destro e il sinistro sino alla fine della musica dove riprendiamo la nostra presa a W. Sembra complicata ma proprio in fondo non lo è. Adesso andiamo a ballarla insieme e quindi la sperimentiamo. Joc Aroman, dalla Romania. Andiamo a ballare. Funzione. 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 via la terza parte entrai no? fino alla fine c'è nessuno due tre quattro cinque desto e sinistro slo Soft. 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 Short. Soft. 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 ****etzt. Pensa. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 6,7, Cine suono, due, tre, quattro, cinque, destra, sinistra, slow, slow, quick, quick, slow, 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 quick, quick, slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick, slow, quick, quick, slow, promenade. Eccola qua, bella chiara questa, Ini Vituini è il nome del brano e Gioca Romanna è il nome della danza, spero che vi sia piaciuta, la proporremo qui in uno dei prossimi Baga Zoom, grazie come sempre della vostra attenzione, tornate qui, ci sono sempre degli altri tutorial e alla prossima, bye bye.